Per chi ama approfondire l'argomento che segue comunico che esiste la ghiotta playlist Geo Ingegneria dalla quale potete estrapolare sufficienti informazioni e scoprire che non si tratta affatto di teoria ma di fatti documentati. Ovviamente manca qualche video, non per mia scelta, in quanto il sistema che ci domina ha preferito rimuovere. Li trovate pubblicati tutti sulla piattaforma Brighton usando la pagina dal sito web www.tinelli.eu. Per chi ha ulteriore desiderio di innalzarsi oltre sbarazzandosi di tutti i credo iniettati negli ultimi 200 anni, suggerisco di iniziare a gustarsi i video dall'inizio del favoloso canale YouTube The Secrets of the World. In uno dei video della indispensabile playlist Storia perduta della Terra Piana, il numero 6, che è stato censurato, ma a cui potete accedere attraverso indice alfabetico, si legge «Non credete a nulla di quello che vi raccontano». È vero. Spegnete una volta per tutte non solo la TV, ma tutti i device che sono diventati per troppi di voi a risvegliatelli, la prima colazione e l'ultima buonanotte. La verità è dentro ognuno di noi, non nella rete virtuale che ci ha pescati. Grazie a tutti. 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 a tutti.